E in questo stiamo migliorando. Grazie di cuore, grazie per tutte le emozioni che mi fate vivere, grazie perché quando ho iniziato questo percorso sono tornato indietro con gli anni e anche come nel 95 sono stato l'ultimo a parlare. E allora eravamo nell'altra piazza, ripeto era un'avventura, non capivo neanche bene quello che stessi facendo, oggi c'è molta più consapevolezza. E allora c'erano soltanto quattro vigili urbani e santo giuffrita che mi faceva Giovanni, tra l'altro non faceva freddo, io parlavo, poi a un certo punto mi diceva vabbè va. Stasera invece vedo che siamo tanti, siamo qui, c'è molta attenzione, l'unica cosa che chiedo è il rispetto della mia persona, il rispetto della mia storia politica in questo Paese. soltanto questo chiedo. Poi chi è più bravo vincerà, chi sarà meglio, chi entrerà meglio nella testa, nel cuore dei cittadini sarà votato, però chiedo il rispetto della mia storia politica, almeno questo ve lo chiedo. Grazie di cuore, un abbraccio e poi vediamo quello che succederà nei prossimi.